L'attesa è finita, dopo aver fatto capolino lo scorso anno e i novitissimi in campo 2022, oggi qui all'azienda agricola Aerean di Polpenazza del Garda sono in mostra i Carraro Tractors AgriCube Pro Stage 5. Andiamo a scoprirli assieme. La scelta degli specializzati di Carraro Tractors è davvero ampia. Gli AgriCube Pro si declinano in sei versioni. Ci sono le vigneto standard largo-basso così come altre tante versioni per i frutteto per un totale di 48 allestimenti base. I modelli da vigneto hanno larghezze fuori tutto comprese tra 1,1 e 1,7 metri che crescono fino ai 2 metri sui mezzi da frutteto. I vigneto larghi e standard sono disponibili solo con cabina da 1100 mm, le versioni basse solo con un arco di protezione, mentre i frutteto è larghi e standard con cabina più grande. Passando ai motori, sotto al cofano ci sono nuovi propulsori downsize da 4 cilindri FPT F28 Stage 5. Pur avendo una cilindrata di soli 2,8 litri, offrono prestazioni di un motore da 3,4 e erogano fino a 102 CV con una coppia massima di 416 Nm. Il motore da 75 CV si adegua poi alla normativa Stage 5 con i sistemi DOC e DPF. Mentre i modelli più potenti utilizzano SCR e le iniezioni via di blu. Per quel che riguarda la trasmissione questa è prodotta all'interno del gruppo ed è disponibile in due configurazioni. La prima con inversore power reverse e high low elettroidraulico che offre 24 marce avanti e 12 retro. La seconda con inversore e high low meccanici mette a disposizione 24 rapporti in avanti e altrettanti in retromarcia. Ce ne sarebbe ancora da raccontare su questi Agri Cube Pro di Carraro Tractor, se in parte l'abbiamo già fatto all'interno dei nostri video di presentazione su Omnitrattore.it. Non ci resta quindi che andarlo a testare direttamente tra i filari e dirvi come funziona uno dei trattori specializzati frutteto e vigneto più importanti di riferimento per tutto il settore.